Ora devo andare. Io devo ora andare. Io devo ora andare. Dove vivono i tuoi genitori? Dove vivono i tuoi genitori? Dove vivono i tuoi genitori? No, questa è la prima volta. No, questa è la prima volta. No, questa è la prima volta. Il treno è arrivato in ritardo. Il treno è tardato. Der Zug ist verspätet. Der Zug ist verspätet. Stai attento. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Di solito bevo caffè. Normalerweise trinke ich caffè. Di solito bevo io caffè. Normalerweise trinke ich caffè. Normalerweise trinke ich caffè. Normalerweise trinke ich caffè. Posso accompagnarti a casa? Kann ich dich nach Hause fahren? Posso io a te verso casa guidare? 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 Posso tu soldi? Posso dopo quello? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io devo ora andare. Dove vivono i tuoi genitori? 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 No, questa è la prima volta. No, questa è la prima volta. Il treno è arrivato in ritardo. Il treno è tardato. Der Zug è verspätet. Sei attento. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Di solito bevo caffè. Di solito bevo io caffè. Normalaweise trinke ich caffè. Normalaweise trinke ich caffè. Posso accompagnarti a casa? Can ich dich nach Hause fahren? Posso io a te verso casa guidare? Posso io a te verso casa guidare? Kann ich dich nach Hause fahren? Kann ich dich nach Hause fahren? Kann ich dich nach Hause fahren? Kann ich dich nach Hause fahren?